Nonostante l'indice RT vicino alla soglia del cambio fascia, nessun passaggio in arancione per il Veneto. Lo certifica il presidente Luca Zaia che annuncia anche l'apertura da oggi della prenotazione dei vaccini anti-covid per una nuova fascia d'età. Apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno dando disponibilità di 800.000 posti, che è esattamente la corte degli 50-59. Cioè tutti hanno la possibilità di prenotarsi, non esclude che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori, perché io punto di farli prima di fine maggio. Peraltro nel portale è pronto l'esordio di nuove sedi vaccinali, ovvero quelle all'interno delle aziende. Chi entrerà a Belluno troverà la possibilità anche di andare ad Agordo o a Luxottica per dire. Nessuna interruzione per chi ha più di 60 anni, la possibilità di prenotare rimane anche se ovviamente ora la situazione si farà più affollata. I medici di medicina generale operanti nel territorio della Conca dell'Alpago, in collaborazione con l'US Dolomiti e comuni di Chies d'Alpago, Alpago e Tambre, organizzano per domani, sabato 8 maggio, una seduta vaccinale per il vaccino anti-Covid presso la palestra delle scuole di Lamosano. La seduta interesserà circa 400 persone dalla classe 42 alla 51, ossia gli anziani dai 70 e 79 anni e si svolgerà in 5 turni dalle 9 alle 15 e 30. La logistica sarà supportata dalla protezione civile e dai dipendenti comunali.